Tieni padre, di qua! Sì, eccomi, eccomi qui Guarda, l'ho fatto io, il mio kairn più alto finora Ah sì, tua madre mi ha detto che ora ti diletti nel costruire cumuli di pietre, davvero notevole E resiste saldo anche contro i venti, guarda Una raffica di vento tale da poter competere anche con i rutti tonanti di Njorda Ben fatto Eivor, ma sappi che l'altezza della struttura non è la sola caratteristica importante Forma, equilibrio, espressività sono vitali Cerca di variare maggiormente Il tuo unico scopo deve essere superare quella che ritieni la migliore delle tue creazioni Sì, eccomi!